Il più grande sequestro di stupefacente avvenuto in Abruzzo negli ultimi anni. 34 kg di eroina rinvenuti ieri in una palazzina del lungomare nord di Montesilvano dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti che hanno arrestato due albanesi incensurati, Alfred Tuscia e Leonard Spachiu, di 28 e 40 anni, nell'ambito di un'operazione condotta in collaborazione con i carabinieri di Pescara. A portare sulla giusta via gli agenti sono state alcune dinamiche dello spaccio condizionate dall'emergenza coronavirus con il mercato in pratica bloccato nel corso della fase 1 anche per via dei controlli stringenti delle forze dell'ordine per le misure anticontagio. Mercato che si è riattivato negli ultimi giorni sia con l'aumento delle richieste dei tossicodipendenti sia dei pusher per l'arrivo di grosse partite di droga. I carabinieri hanno seguito una macchina con due individui che avevano appena finito di parlare animatamente a Chieti con un noto assuntore di stupefacente. I due sono arrivati a Montesivano e sono entrati in una palazzina. In poco tempo i carabinieri hanno intuito che quella era una vera e propria centrale di distribuzione di eroina pronta per lo smercio al dettaglio e con l'aiuto del cane antidroga Aaron hanno fatto irruzione nello stabile dove hanno trovato subito una pressa idraulica. Subito dopo gli agenti hanno scovato all'interno di un arvaglio della camera da letto due sacchi contenenti 25 kg di eroina, 5 kg della stessa sostanza già tagliati e pronti per la vendita al dettaglio. Altri tre panetti della stessa sostanza, del peso complessivo di 2 kg, erano nascosti in una intercapedine presente sotto il tavolo da pranzo. Trovata anche una notevole quantità di sostanza da taglio, i due albanesi rinchiusi nel carcere di Pescara sono accusati di traffico internazionale e di illecita detenzione di stupefacenti. La droga sequestrata se immessa sul mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale circa 2 milioni di euro anche in relazione alla circostanza che, a seguito della quarantena, la richiesta è aumentata e quindi il prezzo della sostanza stupefacente è lievitato.